Allora, ieri sera Amerigo mi ha mandato questo audio che io, qua e là, andrò a commentare. Buonasera, salve. Dunque, sento parlare di satanismo, eccetera, eccetera. Io ci ho messo un po' di tempo a decifrare il cosiddetto satanismo, eccetera, eccetera. Prima di tutto ci sono alcune forze, che sono le forze che noi abbiamo dentro, e sono delle forze tenute, segrete. Tutti le temono. Questa società non vuole che noi accediamo a queste segretissime energie. Perché non lo vuole? Ma non si sa. Beh, secondo me è proprio l'opposto, Amerigo. Cioè, se tu vedi loro con la filosofia di Alistair Crowley, per dire, che dice, do what I will, cioè, fa ciò che vuoi, e stanno completamente distruggendoci, proprio facendo in modo proprio che la gente non abbia nessun tipo di freno. Se tu vedi la TV, per dire, è come se ti incitano a non avere più limiti, no? Fai quello che vuoi, no? Ma in che modo ce l'impedisce? Tenendoci schiacciati. Cioè, se ogni volta che noi pensiamo a qualcosa, la reprimiamo, automaticamente è come se noi stessimo accelerando e frenando insieme. Molto chiaro. Veniamo repressi. Quindi, siamo molto più rallentati, il cervello è molto più lento, non siamo, diciamo, il livello animale, animale, è spento. Allora, Amerigo, tu, mentre registri questo audio, stai mangiando. Secondo te, magari non c'è niente di male, ma secondo me, io per dire, io non l'avrei mai fatto, per dire, finivo di mangiare e poi registravo. Questo per dire che, secondo me, ci sono, cioè, noi siamo fatti in modo diverso. Io rispetto a te, tutto quanto, però, i bisogni che noi abbiamo dentro sono diversi e il fatto che tu hai seguito questa strada nella tua vita è perché hai voluto delle conferme che confermassero la tua natura, ok? E io ho voluto delle conferme, magari leggendo la Bibbia, quello che ti pare a te, che confermassero la mia natura. Tutto qua, non possiamo essere assolutisti qua, non possiamo parlare dell'uomo in generale. Ci sono diverse nature nell'uomo. La tua natura vuole esprimere la parte animale, la mia non la vuole esprimere. Tutto qua, tu pensi che la tua sia giusta, la mia sia sbagliata? Va bene, penso. Ora, quando io dico livello animale, uno può pensare, ah, ma allora vogliamo torneare animali. Gli animali sono esseri molto pacifici, si fanno i cazzi loro, affermare che un animale è feroce, significa essere ignoranti. Pochissimi animali sono feroci, sono feroci se devono predare, ma predano esclusivamente il cibo che gli serve, quindi non accumulano. Persino il leone, che è un figlio di puttana laureato, una volta che ha mangiato, si tranquillizza. Il leone mangia tanto, poi ci sono una serie di animali che, insomma, predano ogni tanto, si vanno a mangiare la propria lucertolina, ma il gatto mangia la lucertola, poi se la finisce. Quindi il discorso di Marcel, quando Marcel dice, ah, allora voi siete soltanto animali, senza valori, ecco, personalmente io non lo condivido, perché l'animale non ha bisogno di valori, e tutto il suo essere è ampiamente superiore a qualsiasi valore umano, quale la cosiddetta libertà, che nessuno sa che cazzo è, la cosiddetta verità, e quant'altro. Beh, a differenza degli animali, a noi ci serve questo altro livello di regola che abbiamo creato a Amerigo, altrimenti tu quando hai fame stacchi un braccio a Steve, a Gesualdo, e non sarebbe molto bello, diciamo, oppure quando ti viene un'urgenza così sessuale, diciamo, vedi una donna in giro e la prendi e te la violenti a Amerigo, questo layer, il livello così di valori che abbiamo sopra la nostra, come un sistema operativo, diciamo, con il tempo è stato un po' così alleggerito da chi ci controlla, perché i loro scopi hanno una loro funzione. Bene, primo di tutto, quindi, l'essere umano ha veramente un bisogno fisiologico di riprendere contatto con la propria animalità. Come fare? Bene, i satanisti hanno fatto credere che sia sufficiente gridare, sbraitare, distruggere, rompere. Tutto questo è molto attraente, io stesso ci sono cascato, ma, ahimè, se vuoi seguire la strada di questo cosiddetto satanismo, cioè, mi sento represso, per riaccedere alla mia animalità, inizio a spaccare tutto, a destra, a sinistra, così, sbraito, sbraito, sbraito. Immaginiamoci un cane che è represso in una città e inizia a mangiare tutti. Prende contatto con la sua animalità, la sua libertà? No! Perché si continua a trovare in una città di merda! quindi non serve solo gridare, l'animalità è molto più che rompere e distruggere. Il satanismo, che è l'elogio della liquefazione, non è altro che l'illuminismo, cioè, la realizzazione di un mondo tecnocratico, cioè, la dissoluzione totale dell'animale. Queste stronzate che io accenno così e dicevo, vai il professore, ci sono arrivato, dopo un sacco di tentativi a distruggere, a gridare di qua e di là, a teorizzare di qua e di là, fino a che staccando la tecnologia, con la tecnologia sempre a città, le ho provate di tutte. Sono arrivato a scoprire, questo vi suggerisco di leggerlo, Marcel Faround the Bunk anche su questo nome, ma ahimè non può permetterselo e si deve cucire la bocca. Marcel è un grande su tutto, però a volte dice e fa delle cazzate come le faccio anche io, le fanno tutte. Elemire Zolla va saputo leggere, bisogna trovare i punti e quant'altro, è un pensatore che è mastodontico, non lo conosce oggi nessuno, a suo tempo cominciò a essere fatto il nome di Elemire Zolla e dice ai giornalisti fu detto di non nominare Elemire Zolla. Elemire Zolla è quello che secondo le mie letture ha semplificato tutto quello che c'è da sapere in modo molto semplice. Dunque, sicuramente chi segue il satanismo soprattutto oggigiorno in contesti politici è mosso dal più puro desiderio, più puro, sono le persone più pure, purtroppo ingenue perché sono i primi step e è stata fatta terra bruciata, quindi quando uno dice voglio rompere, ha ragione, ha ragione, voglio fare la scritta sul muro, voglio andare a mettere la bomba, ha ragione, ha ragione, è ingenuo, ha ragione, è il primo tentativo di un bambino che strilla e sbraita, purtroppo però è stata creata da 300 anni, cioè dall'illuminismo in poi, un fittissimo controllo per evitare che l'animalità vada oltre quel livello. Beh, io ti farei vivere in comunismo, Amerigo, così vedi cosa ti può reprimere questa parte animale, altro che reprimere allora. Però qui invece io, in occidente diciamo, vedo l'opposto, cioè loro hanno voluto cambiare le regole del gioco, così è migliore per loro, cioè noi abbiamo le pecore e i lupi queste due specie vedo io qua in questo mondo, i lupi hanno convinto le pecore a fare un gioco senza regole, perché? Perché ovvio, se facciamo un gioco senza regole il lupo che è, un po' te lo fanno vedere anche con i documentari per dire, ti fanno vedere la legge del più forte, no? Senza regole, senza niente, il lupo vince in quel modo là, per questo ci hanno messo in testa che le regole e tutti questi che tu chiami, così possiamo definire dogmi, che c'è una roba pesante, che ti frenano, quello che ti pare a te, e loro li hanno levati perché in questo modo ci sbrano meglio, poi ovvio, queste regole che loro ci hanno levato non sono totali, perché tu puoi fare veramente quello che vuoi, proprio come vuoi tu, ma sono regole del tipo divertiti, così non ti sposi più, non fai più bambini, ti separi, aborto, tutte queste cose che servono, diciamo, ad abbassare, controllare la popolazione, eccetera, eccetera, quando uno si trova come un pollo controllato, in un sistema che controlla tutto, tu devi essere gestito anche a livello di quando, quanti bambini fai, eccetera, perché noi non sappiamo, non saprebbero fermarci da noi, una volta che il sistema fa tutto, deve occuparsi anche della popolazione, altrimenti se noi fossimo liberi, penseremo noi, useremo la nostra coscienza per capire che forse magari stiamo esagerando i figli, per dire, no? Ma quando sei un pollo in batteria, il sistema deve pensare anche a quello, e in realtà il vero do what I will è loro, cioè loro possono fare veramente tutto quello che possono, a noi, ci hanno venduto queste cose distruttive, come, come se avessero levato qualche regola, diciamo, e lo vendono come libertà. L'animale non è soltanto uno che distrugge, l'animale è anche il gatto che guarda l'orizzonte per un'ora, fermo, e tu non sai cosa sta pensando. Quella si chiama la quiete, la quiete. La quiete, che è un altro bisogno che noi abbiamo, è l'accesso a onde celebrali sempre più lente, sempre più lente. Quella che noi chiamiamo realtà e che la fisica quantistica, Marcel farà sicuramente un debunked, ma è meglio che si sciacqui la bocca, io non ne so un cazzo, Marcel fa tante belle cose, fa anche qualche cazzata, come le faccio io. Ma, quando noi entriamo nelle onde alfa e anche quelle più lenti ancora, gli animali sono in continuazione in quella dimensione, accediamo a quella che è la dimensione metafisica. Ora, ci troviamo in un mondo ipercivilizzato, in cui se io dico metafisica, passo per una checca, un finocchio. Questo sistema è di controllo. Da 300 anni chi parla di metafisica è o un filosofo che lo fa per perdere tempo oppure è una persona che non conta un cazzo. Quindi, diciamo che da molto tempo il sistema ha cercato di individuare i bisogni umani, incluso quello di rilassarsi in un modo totale e gli ha dato dei surrogati, gli ha dato il satanismo. Satanismo per rilassarmi? Vedi, Amerigo, siamo nature diverse proprio. Io magari per rilassarmi penso, che ne so, un bagno caldo e tu invece staccare le braccia a un bambino. Poi bisogna anche vedere ovviamente cosa intendi per satanismo. e gli ha dato poi la cosiddetta new age che è praticamente yoga dell'ultima generazione. Cioè, lo yoga fa sullo. Tecnicamente sia uno schiavo, sia una macchina, però ogni tanto fatti la meditazione perché anche il computer ha bisogno del sistema di raffreddamento. Beh, una particolarità di questa filosofia orientale è che praticamente dice lo schiavo che non c'è il bene non c'è il male quando stai al lavoro fai quel lavoro lì che stai lavorando per la tua distruzione eccetera eccetera però non ci pensare perché non c'è il bene non c'è il male quindi rendere lo schiavo tutto questo yoga tutta questa filosofia orientale più produttivo diciamo non è semplice rilassamento. Questo Ele Mirzolla ha studiato tutti i libri che ci sono al mondo e ha scoperto che simultaneamente alla fine dei mistici i mistici sono quelle persone che dicono voglio scoprire che cos'è l'essere umano indipendentemente dai suoi legami e dalle dipendenze e se ne andava a fare l'erenita a studiare per esempio la Bibbia o anche senza testi una persona che sta da sola infatti Cristo si dice che andò nel deserto tutti i mistici affrontano questa dimensione simbolica del deserto cioè un momento in cui tutto quello che è dentro per forza di cose deve uscire fuori sei solo sei affamato quindi digiuno fame eccetera e devi trovare dentro di te risorse nuove per non morire inizi a mangiare meno inizi a pensare meglio perché pensare male capisci che ti causa nervosismo il nervosismo è uno spreco di energia quindi automaticamente quando stai solo con una sofferenza incredibile arrivi all'essenza se uno non c'è un cazzo da fare invece di zappare la terra se ne va a fare l'eremita nel mio caso le due volte che ho fatto l'eremita ho sempre voluto tornare indietro perché non c'era niente di bello stare da soli poi ovvio a qualcuno può piacere a qualcuno che è individualista che vuole pensare solo ai cazzi proprio però bisogna sempre pensare che qualcuno t'ha fatto a te tu stai avendo questa bellissima esperienza perché qualcun altro non ha fatto l'eremita si è fatto il culo per fatta crescere eccetera eccetera e dovresti dare indietro quello che hai ricevuto però ovviamente come ho detto siamo naturi diverse vediamo la vita in modo diverso tutte le persone che hanno affrontato questo questo cammino sia per bisogno cosciente sia intuitivamente sono arrivati a abbracciare la cosiddetta poesia ma non leggendo erano spesso degli ignoranti anzi quasi sempre delle persone ignoranti ma avevano scoperto che esprimendo quello che avevano dentro catturavano un'energia particolare che è l'energia della parola come si fa ad essere certi di questa cosa che non sia una grande cazzata new age molto semplice è sufficiente andare a leggere i testi i testi dei mistici e capire come sono elaborati i testi dei mistici sono dei pezzi di letteratura complessissima e le mirzolla basta prendere un libro di mirzolla per vedere come cazzo scrive è una persona che scrive in un modo che personalmente trovo musica e musicale tu come fai a misurare un bravo pianista è uno che sa suonare tutti i pezzi che esistono sa leggere gli spartiti come fai a misurare un bravo paracadutista è uno che si butta senza paura ad altezze incredibili come fai a misurare una persona che è in contatto con la parola è uno che scrive benissimo e quei mistici scrivono benissimo parlano benissimo in modo poetico di Dio e di questa dimensione metafisica ma di quale Dio parlano questi questo Dio gli dice anche di stare per cazzi loro e pensare alle loro pippe mentali a cui si accede quando si è rilassati molto rilassati non con lo yoga come si fa ad avere un rilassamento totale e perché lo yoga non può servire perché ci sono dei cancelli uno di questi ti dice tu puoi essere rilassato solo se il mondo è rilassato quindi in qualche misura devi essere in armonia col tuo ambiente se il mondo è una merda tu non puoi essere in armonia puoi provare a isolarti e oggi è il massimo di rilassamento che puoi avere nel mondo iper tecnologizzato infatti bisogna rinunciare a questa dimensione senza scendere ulteriormente nei dettagli e rimanendo al satanismo io penso che siano istanze di una purezza estrema purtroppo non arrivano a molto sono le stesse istanze che mostrano il Marchese de Sade e sono le stesse istanze che crearono ahimè questo mondo ipercontrollato pesano le istanze dell'illuminismo la rivoluzione francese la distruzione di tutto quello che è mistica da 300 anni a questa parte tutto quello che è mistica che è contatto metafisico che è realtà 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 è la stessa realtà con cui vivono le piante e gli animali spesso coincide piano animale piano metafisico e non ha niente di feroce ok per chiudere appunto sono le stesse forze che hanno animato il satanismo quelle che hanno creato il computer la tecnologia per capirlo non è proprio facile i libri di Zola te lo spiegano se volete posso anche dare dei numeri di pagina fare degli screenshot se li trovo fotografie ma chi si guarda dentro scoprirà che è così io ho fatto molti disegni per voi che non ci credono invito a vedere i miei disegni io sfido qualsiasi persona di voi a fare dei disegni più turbati mentalmente io ho investito molto nelle turbe mentali e penso che investirò ancora ma una dimostrazione del mio stato turbato possiamo dire satanico della mente sono alcuni miei disegni sono alcune mie creazioni è evidente che c'è un disturbo cronico ok e io l'ho sperimentato ho fatto molte sperimentazioni in questo versante e sono arrivato appunto dopo ancora ho alcuni costini da limare però a capire che la strada del lasciarsi andare è una chimera e lo spiega benissimo Zola dicendo che appunto è la tentazione più grosso lasciati andare distruggi arriverà un nuovo mondo tutte le utopie tutte le utopie del paradiso in terra sono tutte utopie sì effettivamente per dire anche il nuovo ordine mondiale questo mondo utopico che questi vogliono creare dove non ci saranno più problemi perché avremmo fatti sparire tutti i contrasti e le diversità è un mondo utopico stupido alla fine non funzionerà allo stesso modo possiamo vedere dall'altra parte il nostro mondo ideale utopico della pecora però noi ne abbiamo diversi perché siamo divisi come mondo ideale e alla fine magari tu dici forse alla fine è meglio non prendere parte né da una parte né dall'altra e a quel punto io penso che per quanto tutte queste utopie possono sembrarci assurde prendere parti assurde tutto quanto io penso che sia anche assurdo fermarsi e non scegliere non prendere nessuna parte fare l'eremita perché penso che la vita come la conosciamo finirebbe voglio dire tu Amerigo non credi immagino nella famiglia nel e così nel fare bambini eccetera eccetera però ti posso garantire che almeno io non ho trovato modo migliore di crescere un essere umano che seguendo per dire quello che c'è scritto nella bibbia lo so che è una cosa pallosa noiosa però se l'uomo non segue quelle regole la finiamo siamo finiti tu non esisteresti e nemmeno le tue ricerche interiore non poteva nemmeno esistere se non ci fosse stato qualcuno che ha seguito un minimo di regole finirebbe completamente l'uomo quindi food for thought perché il paradiso è dentro questo non significa che tu puoi raggiungerlo in una casa perché dentro è in contatto anche con sopra e con fuori quindi il paradiso è un equilibrio ormai irraggiungibile dentro invito a leggere tutti il saggio di Zolla che si chiama storia del fantasticare spiega perfettamente come la letteratura sia diventata merda negli ultimi 300 anni non perderò tempo a debuncare Zolla ma te lo lascio tutto a te merda significa che non parla più di cose vere vere non significa io che caco io che piscio vere significa metafisiche ordinate tutti i solitari del mondo gli eremi sono arrivati alle stesse soluzioni come è spiegabile vuol dire che sono vere ma sono vere per loro non diciamo assolutamente vere ma in questo mondo metafisico è giusto vero è ordinato c'è c'è spazio per per come crescere una nuova vita Amerigo come la cresceresti tu una nuova vita servirebbe a delle regole come faresti tu per come ti conosco io pensaresti solo a te stesso a meditare fatti i cazzi tua finirebbe la vita ok sono vere e le mie rezolla gli astrologi non lo conosco va bene un saluto e poi andate va a vedere i disegni se volete vi faccio vedere qualche video eccetera eccetera qua non ci sono professori io non sono un professore però ho sofferto tanto per arrivare a queste piccoli piccole certezze che crollano in continuazione marcel personalmente a me aiuta quando marcel parla di ideali sono chimere sono le stesse chimere anche quelle sataniche l'ideale avere degli ideali per cui morire è puro satanismo difficilissimo capirlo difficilissimo una persona che si fa per uccidere si fa uccidere per i suoi ideali è un satanista controllato perché gli ideali si trovano nelle onde mentali ad un livello molto basso molto basso sono ancora dei conglomerati di parole delle cazzate significa chimere cioè lottare per un mondo fisico visibile migliore bisogna allora scapparsi io non so non ho idea di cosa bisogna fare però già sapendo conoscendo tutte queste cose uno le può fare consapevolmente può lottare per gli ideali e creare una gerarchia lottare per gli ideali è meglio che essere un satanista che distrugge tutto essere un satanista che distrugge tutto è meglio di essere una persona paralizzata essere paralizzato è meglio di essere una persona accondiscendente che si fa tutto quello che il sistema gli dice essere una persona che fa tutto quello che il sistema gli dice è meglio che essere il sistema essere il sistema è meglio di chissà che poi di lì non ne finiamo più però conoscere tutte le strade significa anche avere dei limiti e dire guardi effettivamente non sono un maratoneta sono una persona che ha iniziato a camminare facciamo un pochino di satanismo andiamo a spaccare due pietre diamo due schiaffi all'immagine di mio zio così mi stacco virtualmente dalla mia famiglia però una volta che le conosci è chiaro che si spezza l'attaccamento e quindi è più difficile vivere tutte queste dimensioni con quello spirito di aver capito tutto ottenibile solo con un fanatismo ormai irraggiungibile per quanto riguarda il vivere mascherati nel fare rivoluzione mascherati non ci trovo assolutamente nulla di male esporre il viso non so manco quanto è giusto perché vivere in questa società e andare da un poliziotto e dire guarda eccomi io sono coraggioso è un suicidio lo puoi fare in tanti modi però devi sapere che è un suicidio perché ormai tutto il mondo è fatto di polizia non significa che bisogna andare mascherati io odio le maschere so benissimo che per aver visto alcuni film come per esempio Mr. Robots serie televisiva come Viper Vendetta che sono dei semi che sono stati generati perché poi devono essere l'opposizione controllata ti metti la maschera ma sei una massa purtroppo essere dei gruppi è bello ma non può funzionare per il semplice fatto che siccome il nemico è molto difficile da sconfiggere servono individui non masse semmai individui che collaborano ma mettere la maschera ed entrare in un gruppo che fa le cose giuste significa appunto entrare in un coro far parte dei cori purtroppo significa anche zittire la propria voce quindi usiamo le maschere magari non solo quelle di Viper Vendetta creiamoci una diversa e ogni tanto buttiamola giù mischioliamo tutti questi approcci e cerchiamo di capire la verità invito nuovamente alla lettura di Elemir Zolla se volete delle spiegazioni io per ciò che ho capito posso fornirle e anche dal punto di vista artistico barra satanico barra di esplorazione interiore ecco per quanto riguarda il satanismo quello andiamo a puro quindi vogliamo andare a uccidere gli animali eccetera eccetera si può ulteriormente andare a cercare di capire però a me sono cose che a me non interessa neanche a me va bene un saluto grazie ciao piccolissima aggiunta penso che da Marcel ci sia molto da imparare è una delle cose che lui non dice ma fa e noi impariamo dalle cose che non vengono dette ma vengono fatte dall'esempio è il rapporto che questo ragazzo ha con la natura Amerigo si è sforzato tanto e finalmente ha trovato un lato positivo di me personalmente io in questo aspetto mi sento debitore veramente perché ha un approccio diverso alla vita naturale so che anche suo padre è una persona che ama la natura e noi spesso seguiamo i geni e quindi ha un radicamento discreto con la natura dai gli radiamo la sufficienza a Marcel non è quello di un agricoltore ma è quello che una persona oggi lobotomizzata da internet può magari facilmente provare a sperimentare e prendere contatto con la natura significa anche iniziare a capire quanto ci stanno avvelenando in tutti i sensi e quanti nostri pensieri turbati siano anche non solo come dice Marcel ma anche creati da tutti dei disturbi timici che mangiamo merda respiriamo merda e quant'altro io sono debitore e questa è una cosa che non viene detta ma nei video di Marcel si vede comunque sempre che lui sta dietro un prato io lo conosco da quanti anni da sei anni eccetera eccetera quando viveva a Roma e andavamo in centro lui aveva una faccia totalmente sofferente guardava le marmitte delle auto come se fossero dei fucili dei kalashnikov puntati su di lui è un approccio quasi paranoico visto da da un idiota tossico come la salute può sembrare paranoia appunto per un tossico ma ecco quindi il professore è un bravo professore di di intura ciao allora il messaggio è finito di Amerigo io devo dire che anche se l'ho criticato così su queste cose così filosofiche diciamo resta il fatto che con questa persona io mi trovo benissimo perché la persona anche se qui nel video può sembrare individualista è la persona più rispettosa degli altri più generosa e più sincera che conosco e per me queste sono le cose che contano bye bye ciao 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 ciao